Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobi. Eccoci di nuovo qui con Watch Dogs e riprendiamo da diciamo l'ultima missione dovevamo incontrare Bad Boy 17. Come vedete tra l'altro ho cambiato il mio abito e ho indossato questo abito dell'hacker bianco. Allora, siamo qui vicino a un ingresso per la metro e dobbiamo incontrare finalmente questo misterioso Bad Boy. Bad Boy. Cosa? Bad Boy 17. Ehi, ma che cazzo vuoi? Bad Boy 17. Ah, colpo di scena. Clara. Ne hai 17. E ti sembra forse un Bad Boy? Sembri una testa calda. Spero di non farti paura. Che mai dovresti farmi paura? Ora sei un po' paranoico. Ah sì? Qualcuno incasina la mia vita, minaccia la mia famiglia e nello stesso momento un misterioso Bad Boy vuole incontrarmi e non è un lui. Sembra poco. Senti, devo potermi fidare, Clara. Io non lo farei se possibile. Ma avevo una cosa da dirti. Sai il messaggio che mi hai mandato? Io so dove trovarlo. Beh, non c'era motivo di incontrarsi di persona. No. Invece dovevamo incontrarci. Volevi accesso ai sistemi del DedSec? Ce l'hai fatta. Sto per svelarti un mondo. Quindi devi essere gentile con me. Sì. Sei certo la prima a permettermi. Fanno il lavoro sporco con questo. E non sanno che io ho accesso. L'hai rubato? È una cosa grossa. Non fare lo stupido. Se fai cazzate la gente si fa male. O peggio. Sbaglio o non ti fidi di me? Dammi una buona ragione per farlo. Va bene. E il tizio del messaggio come lo troviamo? Lavoriamo insieme. Tu usa quello che ho mandato. Io traccio il segnale. Non sei come mi aspettavo. Tu invece sei come pensavo, Aiden. Ok, bene. Tutto abilità ottenuto. Va bene, allora poi le segneremo dopo. Ehi. Parlo con Bad Boy o con Clara? Tagliamo corto. Voilà. Allora, dobbiamo scoprire chi ha chiamato. Ma è in gamba. Ha fatto rimbalzare il segnale attraverso una torre del CTO S. Servizi clienti, impiegati, dirigenti. Cose del genere. Una torre di uffici. Dobbiamo entrare nel sistema. Solo così potrà scoprire la sua posizione. Entro dal punto più vulnerabile dell'edificio. Dove ricevono le consegne? Direi nei sotterranei. Nella galleria. Inizio da lì. Scusa, sono stato... scortese prima. Ho capito il tuo gioco. Volevi intimidirmi. Da manuale. Invadere il mio spazio personale. Lo sguardo, contatto fisico. Cercavi delle crepe nella mia corazza. Ne hai trovate? Ti piacerebbe saperlo, eh? Va bene. Allora, ragazzi, io direi di... usare subito... questa macchina che è stata lasciata qui in custodita. Apposta per noi. Porto oggetti svaliggiato. Ah. Si fa così? Va bene. Allora, dirigiamoci verso il nostro obiettivo. Dobbiamo trovare... il punto più vulnerabile per... per accedere. Oh. Perfetto. E ci siamo quasi. Dunque, direi che... Ah, ci siamo già. Allora. Eh, scusate. Sloggiate. Perché già mo' ha un attimo qua, magari, la macchina. No, ma non ce l'ho con voi, eh? Allora. Ah, lì vedo già... Cosa sono delle guardie? Raggiungi gli uffici del sitio S. Entra nella zona di carico sotterranea. È ora di aprire il mio mondo. Va bene. Allora. Cosa abbiamo qui? Qualche guardia. Eh, siamo già... Eh, siamo già... in una zona dove non dovremmo essere. Allora. Possiamo attivare questo antifurto. Fare... distrarre questa guardia, direi. Che cosa è successo? Mi spiace, ma... Chi è... la nanna? Ok, mettiamo subito via la pistola. E qui dentro ce n'è già un'altra di guardia. Dunque, è di là. Non dovrebbe notarci... Ah, eccolo qua. Lì cosa abbiamo? Esplosione, però farebbe troppo rumore. Magari... Qua cosa c'è? Copricavi. Possiamo usare copricavi per distrarlo. Proviamo. Ok, strano. Scusa, eh. No, no, no. Via, 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 via. Non ci facciamo notare. Ok. Però sta andando a guardare lì il tizio o no? Controlla il mitragliatore. Va bene. Allora, controlla di là. Noi ci nascondiamo un attimo qua. Che è successo? No, non c'è nessuno. Tranquillo. Cambiamo angolo. Cambiamo angolo. Via. E anche tu? Stai qua, va? Fai compagnia al tuo amico. Controliamo che non ci abbiano visto. Va bene. Allora, facciamo un controllo con la telecamera. Abbiamo un'altra guardia lì. Questo qua. Ah, abbiamo la distrazione. Io voglio... Diciamo, toglierlo di mezzo, neutralizzarlo perché... Non voglio che dopo mi insegua. Qua questo oggetto? Abbiamo la distrazione. Ah, pieno. Allora, stai qua. Cambiamo ancora angolo. Distrazione. Oh. Per un pelo. Possiamo prendergli in mitra, però. Va bene. Allora. Mettila via. Allora, qui cosa abbiamo? Anche... Prodotti chimici. Via via, nasconditi. Sta arrivando di qua la guardia. Dov'è? Ah, è proprio qua dietro. Cambiamo angolo. Ah, ne sono rimaste tre. Intanto accheriamo questa roba qui. Chiave di sistema. Componente per l'h, uso singolo. Allora, se lo distraiamo di là, quell'altra guardia potrebbe vederci. A parte che... Travola. Si attiva il carrello elevatore? Si, è troppo lontano. Sì, stai, stai, stai. Eh, lo sapevo. Nascondiamoci. No. Mi spiace, ma... Mi avete costretto voi. Io... Volevo addormentarvi. Tutti ho preso. Finiti? Va bene. Eh, un paio li abbiamo dovuti sistemare. Allora, l'obiettivo... È qua. L'accesso è bloccato. Usa il profiler per trovare e hackerare i nodi. Dovremmo forse seguire questo filo di energia. Ecco qua. Sblocca. Va bene. Adesso forse abbiamo già sbloccato tutto. Aperto. Dunque... Non c'è nessuno, sembra. Sono entrato. Che cos'ho davanti? Intanto freghiamoci un po' di roba. È un grande cortile interno. E di sicuro altre guardie. Ah, e gli acchi che ti ho inviato al telefono? È il diversivo perfetto. Puoi disturbare l'equipaggiamento di tutte le guardie. Che equipaggiamento? Qualsiasi. Telefoni. Auricolari. Esplosivi. Ormai c'è un microchip dentro ogni cosa. Ok, ci proverò. Scansione agli uffici. Cerca un laptop non protetto. Trovato. Bradley Colin. Ma dai. Responsabile della sicurezza. Ma certo. Una volta dentro, devi far presto. Rintraccia la chiamata ed esci. La sicurezza ci metterà poco a rilevare l'intrusione. Non preoccuparti. Ok, allora. Abbiamo raccolto anche parecchia roba. Possiamo... Fare un po' di... Fai da te qua. Cosa possiamo fare? Un'esca? Va bene. Allora, no. Non mettiamo niente. No, no. Metti via sta roba. Proviamo ad andare oltre. Allora. Sto entrando in una zona vietata. Attenzione. Allora. Vediamo solo... Trovo una guardia col codice di accesso. Distributore di bevande. Dove saranno i nemici? Usiamo la telecamera. Ha ucciso un delfino. Maledetto. Allora, dobbiamo trovare una guardia con un codice. Qui possiamo usare un esplosivo. Esplosione anche lì. Ah, su. Ah, una telecamera nascosta. Ok. Cambiamo telecamera. Quella è la solita guardia. Un'altra telecamera lì. Qua. È abbastanza ampio come posto. Ah, qua dietro non riusciamo a beccarlo, quello. Aspettiamo questo che sta facendo il giro. Maestro di arti marziali. Ehi. Cambiamo telecamera. Facciamo tutto il giro. Questo è il solito maestro di arti marziali. Codice di accesso. Forse è lui. Dobbiamo hackerare lui. Perfetto. Adesso dobbiamo hackerare il punto di accesso per violare il portatile non sicuro. Dobbiamo... Dobbiamo salire. Eh, mi sa che... Non possiamo fare tutto con le telecamere. Dobbiamo spostarci fisicamente. Può chiamare rinforzi. Non possiamo salire di qua. Allora dobbiamo... Dobbiamo... Dobbiamo distrarli e salire. Quante guardie. Mi sa che è meglio... Lasciarle stare. Allora... Laggiù in fondo c'è una scala. Forse se la raggiungiamo possiamo salire tranquilli. Proviamo a raggiungere questo riparo. Audio diario intercettato. No, saltiamolo che ancora ci sentono. Wee, 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 via via. Via, via. Appena si volta proviamo a stenderlo. Forse è meglio no. Meglio soltanto... Proseguire. Dunque... Vai. Oh cacchio, ci ha visto. Niente, uno dobbiamo... Dobbiamo neutralizzarlo. No, cacchio. Senti, io... Mi sono rotto. Stai lì. Allora, questo sta per controllare. Giriamo di qua. Vai. E due. Via. No, due siamo finiti. Nasconditi qua. Le altre guardie. Ah, mi ha visto dal... Ah, la telecamera è nascosta pure. Cosa ha visto? L'ha fatto così spaventare. Mi spiace, ma... Stai lì. Eh, ci hanno visto. Beh, un po' ne abbiamo fatti fuori. Adesso... Mi spiace, ma... Ci siamo fatti beccare. Eh, vabbè. Mi spiace. Dobbiamo cambiare il riparo. No, 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 no. Via, 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 via. Gacchio. Sono tutti al piano di sopra. Eh, sì. Vai, alzati. Eh, no. Mi è andata bene. Stai giù, stai giù. Stanno cercando di prenderci alle spalle. Ricarica. Eh, no. Cosa sta? Chiamando i rinforzi, quello. Ci serve aiuto qua. Dobbiamo farlo fuori. Cambiamo di nuovo posizione. No, cavolo. Proviamo a salire a sto punto. Mi è andata male. Qui mi serve aiuto. Ok. Sono stati chiamati i rinforzi, cavolo. Sono il numero uno. Eh, sì. Dunque. Dove siete? Ci stanno... Girando. No, 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 no. Riposati, riposati, Aiden. Ma l'avevamo preso. Giù, 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 giù. Cazzo. Guerrilla urbana è diventata qua. Quanti ce ne sono ancora? Giù. Va bene, allora. Proviamo... A fare... A finire di corsa questa... Missione. Prima che arrivino altri... Guardiani. Quindi hackeriamo. Ce la facciamo? Ok. Dobbiamo sbloccare qui i nodi. Allora. Ok. Non basta. Dobbiamo far cambiare il flusso anche qua. E anche qua. No. Non basta. Deve arrivare l'energia dall'altra parte qua. Allora... No, da tutte e tre le parti. Oh, cavolo. Allora... Non basta. Sì, adesso forse... Adesso sì. Ok. Sempre più difficile. Va bene. Qua. Ok. Hackerato. Denunciato per crudeltà sugli animali. Sto dicendo che non è solo una pubblicità. Hackeriamo i computer. Mi blocca la visuale. Vedo solo quell'enorme occhio del cazzo. Trovate... Merda. C'è stata una violazione. Cazzo. Isolate l'edificio. Trovatelo. Ora. Ok. Sei dentro. Vedi chi ha chiamato? Lo sto cercando. Scondiamoci. Merta. Arriva la polizia. Hanno scanner avanzati. Difficili da eludere. Devi andarti da lì. Grazie. Audio diario. Intercettiamo. Lasciamo stare. Non c'è niente. Non c'è niente. Trollo lì. Trollo lì. Allora, dobbiamo farci beccare. Come se fosse facile. Deve essere a corrige. Qua. Hmm. Sono tutti qui davanti, però. Fuggi dal plato. Allora, andiamo... Proviamo a intercettare questo. La polizia mi sta cercando. Dopo averlo, dopo averlo selezionato. Allora. Qual è il Gen.com? Ok. Eccolo qua. Va bene. Possiamo già usarlo adesso. Qualcosa non va con la scansione CDOS. Un attimo. Dobbiamo trovare un'auto. Eccola lì. Ce n'è una che forse fa il caso nostro. Attenzione. Prendiamo questa e via. Ok. Dobbiamo allontanarci. Centrale a tutte le unità. La scansione CDOS ha trovato e marcato il sospetto. No. Come è possibile? Ci hanno già marcato. Vabbè. Allora dobbiamo sfuggire dalla polizia. Cavolo, sono nevicolo qui dietro. Eccolo. Mi mancava. No, non ce l'ho fatta. Mi sono... Mi sono svegliato da solo. E chi è Majin Wu? Che cavolo. Sì, visto che ci siamo. Dobbiamo fermerlo. Eh, sì. Allora, va bene. Ti ordino di fermarti. Merda, mi serve aiuto. No, dove cavolo siamo finiti. Tu ti fermerai se non facciamo qualcosa addosso. Niente, dobbiamo andarcene via di qua. Ti vado addosso. No. Che cavolo. Cambiamo strada, va? E' stata inviata una volante per cercare il sospetto. No. Eh, ovviamente mi hanno già intercettato. Andargli addosso. Forse siamo riusciti a bloccarli per ora. Eh, vabbè. Oh, dove siamo finiti? Cazzo. Non c'è traccia del sospetto. C'è una merda. Ho perso il sospetto. Basta, lasciamo questo mezzo. No. Cambiamo strada. Via, 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 via. Scopriamo di qua. Vediamo di non farci beccare. Dai, dai, dove... Quello stronzo non può nascondersi per sempre. Ah, ok. Prendiamo questa macchina. Cos'è, tua? Centrale, l'abbiamo perso. Svegliamo. Oh. Bene. Missione completata. No. Cavolo, ma sono rimasto chiuso di nuovo. Allora come va? L'hai trovato? Mi sono rotto le palle. L'ho trovato. Ha chiamato da un appartamento nel loop. Finalmente. Fai attenzione, Aiden. Da come ha fatto rimbalzare il segnale, credo che voglia essere trovato. E io non intendo deludarlo. Va bene. Va bene, ragazzi. Io parcheggio qua, vicino alla fermata dell'autobus. Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente. Io spero che questo video vi sia piaciuto. E... Ci vediamo con il prossimo episodio di Watch Dogs. Ciao a tutti.